Parliamo con il Presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, al quale chiediamo se è soddisfatto di un risultato che persegue da tempo e se questo rapporto è un tassello verso l'obiettivo di ridurre la confusione di dati così importanti su questo fenomeno. Certamente motivo di soddisfazione, dopo la nota trimestrale, oggi è per la prima volta questo rapporto sul lavoro congiunto. Ricordiamo tutti il disorientamento dei media, della discussione politica di fronte a un'incredibile quantità di informazione sul lavoro inevitabilmente con qualche problema di coerenza e armonizzazione. E quindi è motivo di soddisfazione aver arricchito l'informazione e permesso analisi dettagliate su tanti aspetti differenti sul mercato del lavoro. Quale sarà il prossimo passo di questa collaborazione? Credo che riguarderà la diffusione e quindi un coordinamento che abbiamo già programmato che prevede non solo un calendario per la nota trimestrale ma anche un calendario per le singole pubblicazioni degli enti in modo da aiutare la comprensione dei fenomeni. Grazie.